Inizio alla stazione di Baiano infiamme la centrale di trasformazione elettrica e interrotta la circolazione dei treni. Paxi di scarica di paperino completata alla prima parte della bonifica rimossi 80 quintali di rifiuti. Orti e oliveti sociali via alle domande per le assegnazioni dei prossimi tre anni in palio 151 lotti. Finale col botto per calici di stelle oltre 6.600 presenze nelle quattro serate della chermessa no gastronomica. Buongiorno, ben trovati a questa edizione del giorno del nostro Tg e in apertura proprio una notizia dell'ultima ora. Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi alla stazione di Baiano. Ad andare a fuoco è stata la centrale di trasformazione elettrica a servizio dello scalo ferroviario. L'allarme è scattato intorno alle 12.45. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che sono impegnate nello spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell'area. La circolazione ferroviaria è stata interrotta. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Maxi di scarica a paperino bonificata una parte dell'area. 22 camion per rimuovere 80 tonnellate di rifiuti. Ci sono voluti ben 22 interventi di movimentazione rifiuti effettuati con automezzi di imprese incaricate da Alia per ripulire una parte del terreno di paperino di proprietà privata divenuta una maxi di scarica abusiva a cielo aperto. Si tratta dell'area adiacente a via del Pozzo nei pressi del cimitero posta sotto sequestro probatorio ad aprile scorso. A seguito di quell'intervento interforze a cui si riferiscono queste immagini, sono ancora in corso da parte di Arpat, le indagini finalizzate a stabilire la portata dell'inquinamento del terreno. Nel frattempo, su una porzione limitata di circa 3.000 m2 rispetto ad una superficie complessiva di 40.000 m2 pari a sei campi di calcio, il Comune di Prato ha emesso l'ennesima ordinanza di bonifica e in accordo con la Procura, nonostante la permanenza del sequestro, sono continuate nelle scorse settimane le operazioni di rimozione dei rifiuti concluse nei giorni scorsi. In tutto sono state recuperate 80 tonnellate e mezzo di rifiuti, composti prevalentemente da colli di scarti tessili ed altri rifiuti speciali quali pneumatici, rottami ferrosi, bombole di gas, ma anche rifiuti pericolosi quali amianto. La bonifica è avvenuta sotto stretta sorveglianza degli ufficiali e agenti della Polizia Municipale che, previa rimozione dei sigilli, hanno scortato i mezzi per le operazioni di ripulitura, riapponendo i sigilli a conclusione di ogni intervento. Il sequestro e il monitoraggio delle operazioni ha quantomeno impedito l'ulteriore abbandono e accumulo di rifiuti e ha restituito polizia ad una piccola porzione dell'area, come si vede in queste foto scattate prima e dopo l'intervento. Le ingenti spese della bonifica, come per altre ordinanze non eseguite in passato, saranno messe in conto ai proprietari. Le varie particelle che compongono l'intera area appartengono a tre persone, tutte di nazionalità italiana, di cui una, un 65enne residente a poche centinaia di metri, e il maggiore proprietario, già in adempiente a tre precedenti ordinanze di bonifica. Le indagini di Polizia Municipale, Carabinieri Forestali e Arpat ipotizzano una lunga serie di reati ambientali in terreni a destinazione agricola. Orti e Oliveti Sociali, via le domande per le assegnazioni dei prossimi tre anni. In palio 151 piccoli appezzamenti di terra da coltivare, guardate. Un'occasione per stare insieme agli amici, si viene qui, si saluta, qualche bischerata si dice, non si sta male. È una buona cosa per pensionati, è tutto, è una buona iniziativa, è tutto. Uno, insomma, per sé, tiene pulito questo pezzettino di campo. Un terreno per coltivare ortaggi e amicizie. Il Comune di Prato ha pubblicato i bandi per assegnare gli orti e Oliveti Sociali per il triennio 2020-2022. Un'esperienza portata avanti da oltre dieci anni in varie frazioni di Prato. Gli Oliveti di proprietà comunale sono suddivisi in 46 lotti, mentre gli appezzamenti di terreno, adibiti ad orti sociali, sono situati in via del Guado a Narnali, dove ci sono 33 piccoli campi, in via Toscanini, con 39 lotti e in via della Gualchiera, con 33 ripartizioni. I soggetti interessati dovranno presentare la domanda entro il 20 settembre, rivolgendosi all'ufficio protocollo di Piazza del Pesce. Io sono nato contadino e mi piace anche. Da quanto tempo ha questo orto sociale? Ora ha sei anni. Come si trova? Mi trovo bene. E poi è bello che vengono a rubare. Ma diverse volte, non è una volta sola. Anche stanotte sono venuti e hanno fatto pulito. Io ho pochi e niente, però quei pochi e niente te lo prendono. Quindi voi avete qui l'orto sociale, adesso c'è una pausa. Sì, noi siamo i giocatori. Facciamo la partitella. Ora avete, c'è poco da fare perché è tutto secco, non c'è più niente. Qui a notte ci vengono a rubare queste quattro pomodori che abbiamo. Tutte le notte vengono a fare. Anche stanotte? Sì, tutte le notte vengono a fare, tagliano la rete. Anche stanotte la rete. Ma sono amici quelli. Anche tu. Non lo so. Ora tocca a lui. A me. Ha preso lui. Che vuole, quattro punti. Per partecipare alla domanda di assegnazione degli orti sociali occorre essere residenti del comune di Prato, pensionati, disoccupati o esodati, non avere altri appezzamenti di terreno coltivati ad orto o oliveto in proprietà, né svolgere coltivazioni su fondi appartenenti a qualsiasi titolo, a familiari o a terzi. Un servizio apprezzato, quello degli orti sociali, che permette ai pensionati assegnatari anche di ridurre i costi della spesa. E la mattina mi alzo presto, però sono già stato alla coppia a fare la spesa. E poi per gli ortaggi in realtà viene qui? E poi per gli ortaggi passo di qui passo. E oggi che cosa ha preso? Un puni persemolo perché la moglie mi ha detto portami il persemolo. Il persemolo? Sì, come si chiama? Persemolo. E adesso la cronaca ubriaco ha sfasciato la vetrina di un negozio con un'asta metallica. E' accaduto la notte scorsa nel tratto iniziale di via Roma ai danni dell'esercizio Living. L'allarme lanciato da alcuni testimoni ha permesso alle volanti della questura di rintracciare poco dopo il responsabile del gesto, un cittadino senegalese di 24 anni pregiudicato e regolare in Italia. L'uomo accompagnato in questura è stato denunciato per danneggiamento e sanzionato per ubriachezza molesta. Sequestrato il bastone metallico lungo 40 centimetri utilizzato per infrangere la vetrina del negozio. Cambiamo decisamente argomento. Chiusura col botto per calici di stelle. La tradizionale rassegna enogastronomica è andata in scena anche quest'anno alla Rocca di Carmignano. Calici di stelle abissa il successo della passata edizione, quella del record assoluto di partecipanti. La ventesima edizione della chermessa enogastronomica che si è tenuta nelle sere del 3, 4, 9 e 10 agosto nei giardini di olivi della Rocca di Carmignano ha fatto registrare ben 6.650 presenze. E anche la chiusura della manifestazione è stata dal record con 2.634 paganti per il gran finale nella notte di San Lorenzo. Siamo riusciti a far vedere la nostra Rocca e il nostro territorio a tante persone e non solo toscane ma anche fuori dalla Toscana. Poi i numeri fanno parte del gioco però calici di stelle in questo momento sta andando bene e sta crescendo automaticamente tutti gli anni di più. Calici di stelle come ogni anno è l'evento clou dell'estate carmignanese sia per la location che è meravigliosa l'antica Rocca di Carmignano è uno dei posti più belli del nostro luogo ma soprattutto per le sinergie insieme alla Proloco di Carmignano, il Consorzio dei Vini e i tanti turisti e cittadini che arrivano da tutta la Toscana per questo evento con i nostri vini, i cibi e diciamo un po' tutti gli aspetti caratteristici di Carmignano. Calici di stelle è sempre più un'occasione per valorizzare il territorio e i suoi prodotti. Protagonisti principali della rassegna sono stati i vini del territorio abbinati alle specialità gastronomiche proposte dai vari stand. Il tutto in uno scenario mozzafiato sulla piana tra Firenze, Prato e Pistoia con tante iniziative collaterali. I vini che ci sono sono l'espressione del territorio, il territorio di Carmignano è un territorio di eccellenza tant'è vero che Cosimo III dei Medici, penso che non sia il primo a dirlo, l'ha stancito come la prima DOCG nel mondo e noi oggi presentiamo la prima DOCG nel mondo, cioè presentiamo il Carmignano, eccellenza del vino italiano, eccellenza del vino toscano, vino antico, vino dai grandi sapori, vino dalle grandi essenze. E ci spostiamo a Montemurlo, diventato Plastic Free, al bando la plastica, monouso negli eventi e negli uffici del comune, presto distributori per l'acqua anche nelle scuole. Stop all'utilizzo di piatti, bicchieri e posate in plastica monouso negli eventi pubblici organizzati o patrocinati dal comune e stesso diviato di utilizzo nelle riunioni di giunta e del consiglio. Anche Montemurlo mette al bando la plastica monouso e si candida a diventare un comune Plastic Free, anticipando le tempistiche dell'Unione Europea. Il primo grande evento che vedrà attuato il principio del Plastic Free sarà Montemurlo Arte e Lavoro, la manifestazione in programma il 21 e 22 settembre prossimi. La plastica monouso non biodegradabile sarà sostituita con materiali prodotti con polpa di cellulosa, attualmente l'unico materiale compostabile che garantisce la qualità della frazione organica. Siamo partiti dalle manifestazioni del comune, da quelle che patrociniamo nei confronti dell'Associazione del Territorio, perché questi sono momenti in cui c'è un uso importante di questi prodotti. La plastica monouso sappiamo è uno dei primi motivi di inquinamento anche dei nostri mari e dei nostri oceani. In questo modo quindi diamo risultato concreto e facciamo sì che i nostri cittadini sappiano anche e abbiano quindi un esempio di quanto è importante eliminare questi prodotti dalle proprie abitudini. Le direttive europee prevedono l'eliminazione di queste materie dal 2021. Noi vogliamo anticipare questo momento, far sì che il nostro comune sia un comune che promuova questa attenzione verso l'ambiente. Nel documento approvato dalla Giunta, l'amministrazione aderisce quindi alla campagna Plastic Free Challenge, promossa dal Ministero dell'Ambiente per la tutela dell'ambiente e del mare. Altri gli impegni presi in questo senso. In primis si procederà allo scadere delle attuali concessioni, a effettuare una manifestazione di interesse affinché nelle nostre sedi comunali vengano installati dei distributori automatici che prevedano l'utilizzo di bicchiere ed accessori in plastica monouso, che sono quindi smaltibili all'interno della frazione organica. In più l'altro obiettivo importante e abizioso che ci diamo è quello di far sì nei prossimi anni di installare all'interno delle sedi comunali e dei nostri plessi scolastici, come già avvenuto nelle scuole medie nel corso del passato mandato amministrativo, dei fontanelli per gli erogatori di acqua. Attualmente un fontanello esiste solo alla scuola media Salvemini-Lapira e l'intenzione è proprio quella di estendere il servizio per educare le nuove generazioni. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, grazie ad un'intesa con Publiacqua, proprio il Comune provvederà alla consegna di borracce per i nuovi studenti della prima classe della primaria. L'impegno del Comune di Montemurlo nei confronti dell'ambiente si declina anche attraverso i risultati della raccolta differenziata che nei primi cinque mesi del 2019 ha raggiunto punte dell'82%. E adesso un occhio al meteo in linea al Consorzio Lamma. Un caro saluto e ben trovati. L'immagine dei satelliti ci mostra le prime avvisaglie del cambiamento del tempo che si verificeranno la giornata di domani. Cominciano ad affluire le prime nuvole e seguirà il passaggio di una debole perturbazione nella giornata di domani martedì che avrà il merito di portare freschi venti di libeccio e quindi un agognato calo delle temperature. Ma per la giornata di oggi il caldo resiste, soprattutto sulle zone interne dove avremo ancora 37-38 gradi. Un leggero calo delle temperature è previsto sulla costa centro-settentrionale grazie a venti in rinforzo occidentali. Per la giornata di domani poi, come detto, ci sarà il transito di una perturbazione che porterà pochi effetti per quanto riguarda la nuvolosità. Cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata. Qualche addensamento un po' più consistente nel pomeriggio sulle zone settentrionali. Possibilità di qualche isolato rovescio, in particolar modo sui rilievi. Soprattutto temperature in calo con valori che si riporteranno più o meno in norma grazie ai venti di Libeccio, moderati o localmente forti. Bene, con questo è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto e augurandomi una buona giornata. È tutto anche per noi. Il Tg torna questa sera in diretta alle 20.30. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.